Saranno oltre mille gli augubini che riserveranno un grande abbraccio corale, un'ideale spallata nel ricordo di una pagina che resta unica nel contesto drammatico della prima guerra mondiale. Sabato 5 agosto e domenica 6 agosto la comunità augubina si ritroverà sul col di lana nel cuore delle Dolomiti per celebrare il centenario della festa dei ceri al fronte organizzata cento anni fa dai soldati augubini che non solo costruirono i ceri sul fronte del col di lana ma riuscirono a coinvolgere nell'inedita iniziativa anche tanti altri soldati. La macchina organizzativa procede spedita e ieri sera si è svolta una nuova riunione del comitato per il centenario presieduto dal sindaco Stirati e composto dai rappresentanti delle varie componenti istituzionali legate alla festa dei ceri da università dei muratori al maggio gubino dalle famiglie ceraiole alla diocesi e alle università di mestieri. Diciamo che la cerimonia è il momento clou di un lavoro che viene avanti ormai da molto tempo in modo particolare nell'ultimo anno perché ci sono state tante iniziative ricerche raccolte documentarie abbiamo anche il materiale per fare una mostra per raccogliere in un catalogo tutte le risultanze di questa memoria che è fondamentale consegnare alla città e anche alle future generazioni perché comunque questo centenario nell'ambito delle ricorrenze che riguardano la prima guerra mondiale rappresenta un momento altamente significativo. Il 5 e 6 agosto sul Colle di Lana ci sarà una fortissima presenza di eugubini che doneranno al Sacrario dove ci sono migliaia di caduti della prima guerra mondiale e anche caduti nostri diciamo così anche eugubini doneranno questi tre ceri con le barelle i santi diciamo realizzati da nostre maestranze che naturalmente voglio ringraziare e la cui bravura voglio sottolineare in maniera particolare ceri che appunto dopo questa cerimonia verranno collocati all'interno della chiesa del Sacrario stesso. Quando ci sono i ceri in ballo evidentemente non è facile fare la sintesi però alla fine viene fuori un programma molto importante. Noi nel corso del mese di luglio presenteremo questi mesi, questi ceri alla città, li collocheremo all'interno della Basilica di Sant'Ubalo quindi ci sarà una presentazione ufficiale da questo punto di vista e poi naturalmente daremo anche indicazioni di carattere organizzative perché il 5 e il 6 agosto su Alivina allunga il Colle di Lana ci sarà un'affluenza di gente per cui bisognerà anche organizzare le cose molto bene. Sarà dunque un fine settimana da ricordare tra la cerimonia del sabato mattina con la messa, il canto degli alpini e la cosiddetta mostra in corsa dei ceri che compiranno un breve tratto di strada e la domenica che invece ripeterà la tradizionale ascesa in cima all'altopiano del Colle di Lana dove sarà celebrata la Santa Messa con la presenza delle delegazioni di alpini e dell'esercito austriaco nel ricordo della grande mina che sconvolse la linea del fronte e rappresentò uno degli eventi più cruenti della grande guerra. Riti e luoghi che si animeranno con il ricordo del centenario dei ceri ma che richiederanno comunque sempre la dovuta compostezza. Assumere il giusto atteggiamento di doveroso omaggio e direi anche di solenne omaggio perché noi andiamo in un sacrario, in un cimitero è vero che ci andiamo con i ceri per cui ovviamente ci sarà anche l'elemento richiameremo e riviveremo anche la vitalità e la dinamicità dei ceri stessi però la cosa che va assolutamente enfatizzata è che andiamo come quando andiamo al cimitero a Gubbio la mattina a rendere omaggio a tutti i defunti ceraioli così a Limina Longo e al sacrario del Colle di Lana accadrà una cosa analoga quindi dovremmo assumere tutti un atteggiamento molto responsabile responsabile molto molto serio e consapevole di questo momento altissimo però io credo che sarà anche un momento di grande festa un incontro con quella comunità io col sindaco di Limina Longo mi sono sentito continuamente avremo il patrocinio della regione Veneto e della regione Umbria ci sarà la presenza degli degli alpini degli austriaci naturalmente del nostro vescovo del loro cappellano militare quindi diciamo che avremo una celebrazione che il sabato mattina 5 sarà costituita da questi saluti ufficiali portati da noi tutti dai sindaci dal vescovo dalle varie espressioni delle comunità poi ci sarà la messa e poi ci sarà questo momento diciamo così di nel quale i ceri verranno presi su faranno questo giro per il sacrario e anche per il luogo dove è stata immortalata anche la loro immagine cento anni fa quindi credo anche con una grande emozione e poi verranno diciamo collocati all'interno di questo di questo sacrario